ciao a tutti gli amici della punto gt oggi mi trovo nel concessionario locale fiat alfa abarth per vedere da vicino la nuova tonale spero che ci sia in concessionaria dovrebbe esserci e così possiamo avere un'impressione più ravvicinata da questa nuova creatura del marco alto ci sarà non ci sarà la tonale ora entriamo dentro e lo scopriamo venite con me eccoci qui trovata la porta segreta che porta alla tonale vediamo questa presentazione vip insieme ancora qui in tutta la sua bellezza questo stile con i fari full matrix led che ricorda molto la alfa romeo s z vediamo anche nel frontale che ricorda un po la versione sportiva della stelvio con lo scudetto centrale con telecamera il radar posto sotto lo scudetto e i sensori di parcheggio anteriori con questo frontale molto aggressivo anche nel posteriore la firma è full led e il lunotto curvo ricorda un po la alfa m8c competizione nel posteriore non si notano gli scarichi che sono anzi qui ce n'è solo uno nella versione ed è nascosto intanto facciamo un giro un po nella sala dove la presentazione sta per avvenire questa qui è un edizione speciale della tonale monta il motore 1500 mild hybrid quindi è benzina e c'è un motore elettrico che viene alimentato direttamente dal motore termico la potenza di 130 cavalli 96 kilowatt e anche guardando negli interni è un'ottima abitabilità per cinque persone interne qui sono in pelle e è una delle off romeo più connesse più smart degli ultimi anni abbiamo qui un display centrale di 12,3 pollici nel posteriore come vi ho detto non non si vedono gli scarichi ma c'è questa bellissima linea e questi cerchi da 20 pollici che le danno un aspetto molto aggressivo l'accesso ai posti posteriori è comodo e si viene accolti da un ambiente molto soft luminoso e ricco di soluzioni tecnologiche per i passeggeri al posteriore abbiamo bocchette di aereazione prese usb e un'ottima presa 12 volte gli interni di questa faromeo tonale riprendono l'impostazione dai drive oriented con il manettino dna alfa romeo bello in vista tutta la plancia è leggermente inclinata verso il conducente dove c'è questo strumento centrale da 12,3 pollici la tipica forma di cannocchiare per quanto riguarda i contenuti digitali la tonale sfrutta un moderno sistema di infotainment con un monitor touch da 10,25 pollici e un assistente vocale amazon alexa ci sono tanti adas tra i quali il cruise control adattivo intelligente mantenimento della carreggiata evoluto l'assistenza della guida in colonna e anche per la sicurezza come il controllo della stanchezza del conducente l'avviso di presenza di alta auto quando si fa retromarcia l'abitacolo è spazioso e davvero molto ben rifinito questa gli interni in pelle qui sono optional normalmente sono in alcantara e anche questi bellissimi cerchi da 20 pollici su nel posteriore ricorda un poco auto come la brera o anche questa firma lunga come un po l'alfa 75 e mentre la linea laterale è molto più ripresa da alfa romeo gt il vano bagagli è di circa 530 litri quindi poco di poco inferiore a quello della stelvio non c'è ruota di scorta ma kit di riparazione eccolo qui questo moderno cockpit come lo definiremo con il manettino dna il cambio automatico e i pulsanti per la climatizzazione un pratico bracciolo che ricordano molto quelli della peggio quindi si vede un po l'influenza stellantis qui e nel frattempo con una plancia davvero completa con illuminazione a led che garantisce sempre una certa sportività cambio automatico con palette al volante per cambio di marcia qui siamo un poco nello stand della presentazione dove ci sono immagini che riprendono i modelli precedenti e qui un po di accessori come questi cerchi da 21 dischi carboceramici volante sportivo e troviamo anche qui le le pinze frenanti brembo marcate alfa romeo di colore rosso con sono a quattro pompanti e qui vediamo un po con escluso storico nella sala dove anche altri clienti vengono attirati dalla dalla presentazione della stelvio questo è una brochure invece per quanto riguarda i prezzi questa edizione speciale col 1500 da 130 cavalli mild hybrid a prezzi che partono da 32 mila euro per la versione base esistono anche motori 1600 full hybrid o c'è anche un 1300 turbo che può arrivare a 275 cavalli c'è anche una versione diesel da circa 200 cavalli certo fatica un poco a comprendere tutta questa tecnologia un po tutti questi anche la forma da suv che ha la tonale ma vederla finalmente dopo il 2019 è sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è sul mercato è qualcosa di così personale questa linea così alfa romeo che comunque spero faccia breccia nel nel cuore di tanti appassionati e che comunque possa risollevare un poco anche le vendite del marchio che sono davvero molto giù ridotte solamente alla giulia e al e alla stelvio sperando in un prodotto che possa aiutare un poco il marchio alfa romeo e dopo aver osservato la nuova tonale un ottimo compromesso tra la stelvio e la giulia non possiamo non guardare questa bellissima fantastica alfa romeo giulia quadrifoglio verde chiaramente il top di gamma in questa colorazione rosso alfa che è fantastica la linea nonostante sia uscita quasi sei anni fa resta comunque attualissima molto personale anche se per tanti è molto simile a una bmw m3 il prezzo qui è di circa 98 mila euro in questa configurazione quindi un prezzo davvero importante ma l'auto con questi ritocchi in tutti questi dettagli in fibre di carbonio questi fantastici cerchi da 21 pollici è davvero aggressiva notiamo ora un dei particolari di questa di questa giulia e vediamo all'interno un po come come si presenta anche se un'auto che forse avete visto e non stanca mai vederla soprattutto sarebbe bello sentirla in moto sentire quei suoi scarichi che ci fanno sentire il suo motore intanto faccio una panoramica qui anche per uno stelvio quadrifoglio con questo magnifico impianto frenante brembo filmato alfa romeo e cerchi da 21 pollici davvero imponente vediamola all'interno ecco anche lei a fondo scala a 330 chilometri orari quindi davvero una bomba col suo start e stop il logo quadrifoglio cambio automatico otto rapporti zf e che dire quando si entra in un'auto del genere sia davvero la percezione di essere su un grande gioiello tecnologico italiano e su qualcosa davvero di speciale vederla da ferma è una cosa sentire il movimento è tutt'altro qui una versione un po più economica della stelvio per modo di dire intanto qui voglio riprendere sulla giulia il ecco un po la sua fiancata qualche dettaglio dei dei cerchi vediamo se apriamola dentro a eccoci qua un posto di guida fantastico con un'impostazione davvero molto bella il logo quadrifoglio che spicca sul volante sul cruscotto per non far dimenticare neanche il momento su che tipo di auto si ci si trova è un un insieme di pelle ed alcantara molto morbida al tatto diamo anche il manettino del dna con la posizione sport race per far cantare il motore qui un insieme di accessori con pinze dei freni cerchi e qui il baule della della alfa romeo giulia quadrifoglio qualcosa che non viene ripreso di solito però mi andava di vedere ecco se riesco a chiuderlo un po questo effetto alfa 75 cosa ci sarà nel baule di una giulia sono letteralmente pazzo di questa macchina è fantastica questa alfa romeo giulia quadrifoglio verde davvero un orgoglio italiano e anche così ferma senza sentire il suono del motore resta sempre un mito ora però spostiamoci a vedere qualcosa di più piccolo in casa abarth ed eccoci qui vi ricordate questa 595 spa ora è targata quindi è stata è stata venduta adesso facciamo un giro tra queste piccole bombe sportive e soprattutto questa che mi captura un po una 695 ss competizione ora cerchiamo di vedere da vicino questa colorazione nera con cerchi bianchi davvero molto molto bella e all'interno possiamo ammirare lo spoiler come quella del settantesimo anniversario quindi regolabile in tante posizioni modello tipo quello della lancia delta questi bellissimi sedili sabelt marcati 695 ss davvero fantastici che sembrano quelli di in auto davvero da da competizione e questo misto pelle alcantara anche se le plastiche sono un poco rigide però questa qui è una versione con questi bellissimi cerchi da 17 pollici e il motore da 1.4 tjet da 180 cavalli per una bomba moderna ed eccoci qui ritornati alla base dopo aver visto in anteprima l'alfa romeo tonale e aver dato uno sguardo a dei sogni come la stelvio quadrifoglio verde e l'alfa romeo giulia quadrifoglio verde con il loro motore da 510 cavalli e un piccolo sguardo che abbiamo dato anche alle 500 abarth di un'altra categoria però potrebbero essere considerate le rete della nostra cara punto gt anche senza mischiare il sacro profano comunque ad ogni modo spero che il video vi sia piaciuto e continuate a iscrivervi al canale lasciate un like se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi perché più del 90 per cento delle persone che guarda i miei contenuti non è iscritto al canale iscriversi al canale non costa assolutamente nulla basta cliccare la campanellina al lato del video e così restate in mia compagnia va bene grazie ancora e al prossimo video ciao